Grazie, buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Nel mio intervento di oggi vi parlerò di disuguaglianza, mobilità sociale e ascensori. Ascensori sociali e non. Vorrei partire con un esempio di mobilità e mobilità sociale, preso dalla storia della mia famiglia. Nelle foto dietro di me vedete il primo a sinistra è mio nonno, il secondo al centro è mio padre, che è anche in platea, e l'ultimo sono io. Sotto ciascuna foto, oltre alla data di nascita, c'è anche il titolo di studio che ciascuno di noi ha raggiunto. Vedete, mio nonno ha studiato molto poco, si è fermato in secondo elementare, mio padre invece ha fatto il grande salto nella famiglia e si è laureato, poi anch'io mi sono laureato. Il confronto fra il titolo di studio di mio padre e quello di suo padre, cioè di mio nonno, è un esempio di mobilità culturale, mobilità sociale, invece il confronto fra me stesso e mio padre è un esempio di immobilità. Torniamo adesso alla questione della disuguaglianza. Numerosi studi, abbiamo visto i dati anche nei precedenti interventi, hanno mostrato come la disuguaglianza si è aumentata nell'ultimo trentennio in molti paesi e anche in Italia. I dati sono chiari, vi è invece un acceso dibattito sulla loro interpretazione. La domanda chiave, in questo rispetto, è se l'aumento della disuguaglianza, che è ben documentato, rappresenta o meno un problema. Piketty dice, è aumentata la disuguaglianza e altri economisti dicono, e allora? Per rispondere a questa domanda, o meglio, una risposta a questa domanda retorica, la dà questo grafico che vedete alle mie spalle. In questo grafico troviamo, sull'asse orizzontale, un indicatore della disuguaglianza. È l'indice di Gini, che va da 0 a 100, ovvero 100 è il livello massimo di disuguaglianza osservabile. Sull'asse verticale troviamo invece un indicatore di immobilità sociale, più precisamente un indicatore della somiglianza fra il reddito del padre e del figlio. Maggiore è questa somiglianza, maggiore è la immobilità sociale. Il grafico ci dice che c'è una relazione positiva fra disuguaglianza e immobilità sociale. Questo grafico è stato presentato dal presidente americano, Barack Obama, al congresso qualche anno fa, per avviare una riflessione sugli alti livelli di disuguaglianza negli Stati Uniti e avviare un dibattito su delle possibili misure per ridurle. I suoi consiglieri economici hanno intitolato questo grafico La curva del grande Gatsby, in riferimento al romanzo di Scott Fitzgerald, il cui protagonista, Jay Gatsby, è di umili origini, è figlio di una famiglia di contadini e riesce poi nel corso della sua vita a diventare milionario a Long Island. Ecco, la storia di Jay Gatsby incarna il sogno americano, e per questo gli è stato dato il titolo nel grafico, per cui qualsiasi individuo dotato di talento e di motivazione, anche se nel caso di Jay Gatsby bisognerebbe dire che qualsiasi individuo è anche disposto a commettere qualche attività illegale, nel senso che buona parte dell'accumulazione della sua ricchezza era stata ottenuta attraverso attività di contrabbando. Comunque dicevo, il sogno americano per cui qualsiasi individuo dotato di talento e di motivazione può arrivare ai vergici della società a avere successo indipendentemente dalle proprie origini sociali. Questo grafico ci dice che il sogno americano è per l'appunto un sogno e che l'origine sociale condiziona ancora profondamente le possibilità di successo e i destini educativi e occupazionali degli individui. Il messaggio preoccupante per coloro che aderiscono a un ideale di società meritocratica, in cui la posizione di un individuo dovrebbe essere solo determinata dal suo merito, dal suo sforzo e dalla sua motivazione, è che per l'appunto quanto maggiore è la disuguaglianza, questo è quello che ci dice il grafico, tanto maggiore è l'effetto della famiglia di origine sul destino degli individui. Ora, una seconda domanda che vorrei formulare e discutere con voi nel resto del mio intervento è che cosa si può fare per cercare di rompere questo nesso che si vede nella curva del grande Gatsby e per cercare di promuovere la mobilità sociale. La risposta tradizionale a come promuovere la mobilità sociale è stata che la scuola, l'istruzione, è il grande ascensore sociale meritocratico, per cui promuovendo l'accesso sempre di più alla scuola, in definitiva si dovrebbe riuscire a promuovere un carattere sempre più meritocratico della società in cui viviamo. Ora, questa idea della scuola come volano della meritocrazia presenta perlomeno due limiti e sono due aspetti su cui ho concentrato più specificamente la mia ricerca e su questi vorrei discutere, insomma un po' come la scuola da sola non possa risolvere i problemi della mobilità sociale, questo è un po' il senso del resto del mio intervento. E il primo di questi aspetti critici rispetto a una visione della scuola come grande volano della meritocrazia è ben illustrato nel passaggio, in un passaggio di un discorso che un altro presidente americano, questa volta George Bush, ha tenuto all'università di Yale qualche anno fa. Nel 2001 l'università di Yale ha concesso una laurea d'onore a Bush, Bush aveva già studiato a Yale negli anni 60 e si era laureato poi nel 68. Ora, nel discorso di ringraziamento Bush ha usato queste parole rivolgendovi agli studenti e ve le traduco liberamente, quindi lui disse agli studenti a coloro di voi che si sono laureati col massimo dei voti dico bravi, bravissimi, e invece agli studenti C, che sono gli studenti mediocre nel sistema americano, vi dico anche voi un giorno potrete diventare presidenti degli Stati Uniti. Ora, la cosa interessante è che questo è stato nel 2001, qualche giorno fa in un altro discorso, questa volta l'università di Dallas, ha ripetuto pari pari le stesse parole, quindi si vede che gli piacciono molto insistere sul fatto che era uno studente C e che comunque è riuscito a diventare presidente degli Stati Uniti. Il punto importante è precisamente il fatto che lui riconosce di essere stato uno studente mediocre. Sappiamo anche che l'equivalente dei suoi voti di maturità erano bassi e sicuramente non sufficienti per essere ammessi all'università di Yale, che è una delle più selettive in America. Se Bush è stato ammesso a Yale, probabilmente ciò è dovuto al fatto che sia suo padre che suo nonno erano stati studenti a Yale e avevano elargito nel corso degli anni generosissime donazioni all'università. Ora, la storia del giovane Bush è un esempio estremo di quello che in sociologia si chiama effetto di compensazione, ovvero se si crea un problema nella carriera scolastica, e quando dico un problema mi riferisco per esempio a scarsi voti, a una bocciatura, a problemi disciplinari, gli studenti di famiglie agiate hanno comunque una seconda opportunità. Riescono a compensare, grazie alle risorse economiche, sociali e culturali della propria famiglia, questo problema, e comunque a navigare nel sistema educativo e riuscire comunque ad arrivare ai livelli più alti. Per gli studenti di classe sociale bassa, un problema di questo tipo può risultare definitivo e portare all'abbandono degli studi. L'idea in generale, l'implicazione di questa idea di vantaggio compensativo, è che la maggiore disuguaglianza nella scuola si osserva non fra gli studenti bravi, bensì fra gli studenti con basso e scarso rendimento. Quelli di classe sociale alta, nonostante il basso rendimento, appunto George Bush, riescono a continuare a studiare, quelli con basso rendimento ma di classe sociale bassa si interrompono. Come dicevo l'esempio di Bush è estremo, però è diffuso anche nel nostro paese, qui si sono dati dell'indagine Istat sui diplomati, le barre del grafico si riferiscono alla proporzione di diplomati del liceo che si iscrivono all'università in funzione del livello educativo dei genitori e del voto di maturità. Nella parte destra ci sono gli studenti con voto alto di maturità, fra 90 e 100, nella parte sinistra quelli con voto basso, fra 60 e 70. Vedete che tra gli studenti bravi la classe sociale d'origine non conta, tutti si iscrivono all'università. Fra quelli invece non bravi, fra quelli di classe sociale alta con i genitori laureati, la grande maggior parte, il 90% continua a studiare, mentre invece chi ha soltanto una, i genitori con licenza media, interrompe. Quindi primo meccanismo che altera il funzionamento dell'ascensore sociale meritocratico della scuola, effetto di compensazione, per cui gli studenti non bravi di classe sociale alta comunque riescono ad andare avanti. C'è un secondo altro limite a questa idea, e per non continuare a fare esempi usando gli Stati Uniti appunto come esempio, ho cercato un esempio nostrano e devo dire che i politici offrono un repertorio enorme per gli studiosi di disuguaglianza sociale, per trovare gli esempi. Quindi oltre all'effetto compensazione, c'è quello che chiamiamo effetto spintarella. Dietro di me vedete la foto dell'ex ministro Lupi e di suo figlio, la vicenda è nota, penso che tutti la conoscono. L'aspetto importante che voglio sottolineare è che se l'effetto compensazione si osserva tra gli studenti non bravi, l'effetto spintarella si osserva invece tra gli studenti bravi. Perché il figlio di Lupi, possiamo dirlo, è accertato, è uno studente bravissimo. Si è laureato a 23 anni in ingegneria civile con 110 lode. Poi l'altro aspetto della vicenda è che dopo due mesi era riuscito a trovare un lavoro che gli garantiva uno stipendio di più di 2000 euro secondo gli atti del GIP di Firenze che poi hanno portato alle dimissioni di suo padre. Quindi è questo l'elemento diverso rispetto all'altro esempio di cui discutevo prima. E questo che chiamiamo effetto spintarella, boosting in inglese, è anche in questo caso, l'esempio di Lupi è estremo, ma è diffuso. Cioè a parità di laurea e a parità di voto di laurea, chi proviene da una famiglia di dirigenti o dei libri professionisti di classe sociale alta, possiamo dire, ha un vantaggio in termini sia di trovare un lavoro che poi del salario e dello stipendio associato a questo lavoro. Vedete, questi sono invece dati di Alma Laurea, è un'inchiesta sui laureati cinque anni dopo la laurea, i laureati sono praticamente tutti laureati in Italia. Vedete, lo stipendio medio per i figli dei libri professionisti e dirigenti è di 1.400 euro, con la stessa laurea, con lo stesso voto, i figli di operai guadagnano 1.250 euro. Cioè 150 euro in meno, il 10% in meno, è una differenza abbastanza notevole. Voglio essere chiaro, questo vantaggio non è sempre dovuto alla raccomandazione diretta, alla telefonata che poi viene intercettata e poi bisogna dimettersi. Ci sono studi che suggeriscono che questo vantaggio dei figli di classe sociale alta è legato alle loro competenze sociali, per esempio la capacità di parlare in pubblico, di interagire con gli altri, è legato a caratteristica della personalità, per esempio la sicurezza in se stessi. E queste competenze, queste caratteristiche, si acquisiscono in seno alla famiglia e poi offrono un vantaggio sul mercato del lavoro. Però, in ogni caso, per riassumere fino a qui, l'idea è che il vantaggio di compensazione e l'effetto spintarella alterano il buon funzionamento della scuola come ascensore sociale. Nel caso degli studenti mediocri, e quindi si dovrebbero fermare ai piani bassi, la famiglia riesce a sollevarli fino ai piani più nobili. E invece, nel caso degli studenti bravi, quelli che arrivano comunque all'ultimo piano, la famiglia riesce a dargli una spintina aggiuntiva, per cui arrivano all'attico, al tetto o al cielo, o dove vogliamo. Quindi, questi due meccanismi mettono in discussione che la scuola da sola ce la possa fare a risolvere il problema dell'immobilità sociale in Italia. C'è un terzo aspetto di criticità che ho riassunto in queste due fotografie, non posso svilupparlo a lungo, però l'idea è attualmente in Italia, fra le persone di 30-34 anni, la percentuale dei laureati è del 23%, una delle più bassi in Europa. La Commissione Europea ha posto come orizzonte per il 2020 quello del 40% di laureati. Sappiamo anche che in Italia, insieme agli altri paesi europei, è altissima la percentuale di laureati disoccupati. Ora, se cerchiamo di raggiungere questo obiettivo del 40% e se in parallelo però non c'è una crescita e uno sviluppo occupazionale adeguato, ci ritroveremmo in una situazione che è sintetizzata in queste due slide, con un ascensore in cui tutti sono schiacciati, per poi uscire e mettersi in questa fila interminabile che vedete dall'altra parte. Quindi, questo è un terzo elemento che la scuola da sola, se parallelamente non c'è uno sviluppo di occupazioni altamente qualificate, non può creare necessariamente più uguaglianza. Quindi, ritornerei brevissimamente alla curva del grande Gatsby. Se la scuola non ce la può fare, il grafico del grande Gatsby si suggerisce che se vogliamo cercare di far aumentare la mobilità fra generazioni, una soluzione è quella di rendere più uguali le posizioni di partenza, cioè cercare di spostarci verso sinistra sull'asse orizzontale. E questo inevitabilmente comporta una qualche forma di ridistribuzione del reddito e della ricchezza. Ora, non ho abbastanza tempo per discutere concretamente le misure da adottare in questa direzione. Ci vorrebbe probabilmente un altro TED. Preferisco, per concludere, mostrarvi altre due fotografie. Sono due fotografie di edifici, entrambi costruiti in Spagna, che è un paese a cui sono molto affezionato. Mia moglie è spagnola, anche lei, in sala. Di fatto, tutta la sala sono i miei familiari. Quelli che non conoscete sono o amici miei o familiari. Allora, questi due edifici sono in Spagna, dove ho vissuto dieci anni. Il primo a sinistra è a Benidorm, si chiama in tempo. È un grattacielo sulla costa spagnola ed è il grattacielo residenziale più alto di tutta Europa. È stato iniziato a costruire nel 2006 e poi, nel corso degli anni, è diventato un esempio della crisi immobiliare e economica che ha colpito il paese. Doveva essere finito nel 2009, i lavori sono stati interrotti per tanti anni. Il progetto è stato ampliato, è un edificio faraonico con un campo da golf di fianco. Gli architetti lo hanno abbandonato, è cambiata la proprietà, ci sono stati incidenti gravissimi degli operai sul cantiere. Fatto sta, è stato finito nel 2014, è ironico, si chiama in tempo, cinque anni dopo il nome non è forse dei più corretti. Però la notizia più sorprendente che è uscita qualche anno fa è che a un certo punto ci si è resi conto che non si poteva costruire l'ascensore perché non c'era lo spazio del vano macchine. Poi dopo sono riusciti a risolvere il problema, però questa idea del grattacielo più alto d'Europa senza ascensore mi ha sempre colpito e mi è sembrata molto interessante. L'altro edificio, invece, vedete nell'altra diapositiva è completamente diverso, è un edificio di solo quattro piani con tante finestre orizzontali, c'è scritto è Reina Sofia a Madrid, ci sono due ascensori bellissimi, trasparenti, che vanno continuamente su e giù e vedete il fatto che sia orizzontale permette anche una mobilità laterale. Se siete nel grattacielo a Benidorm e da una torre volete andare nell'altra dovete scendere giù sempre che troviate l'ascensore, se no dovete farlo a piedi, scendere giù e tornare su. Mentre invece nell'edificio di Reina Sofia è molto facile muoversi da un lato all'altro. Ora, questi due edifici rappresentano due modelli ideali di società, se vogliamo. Da un lato, in grattacielo, rappresenta una società molto disuguale, con molta distanza tra chi sta in alto e chi sta in basso, con un ascensore che non c'è oppure che funziona male, non si sa se arriva fino in cima, è molta difficoltà anche per muoversi da un lato a un altro. L'altro edificio invece rappresenta un modello di società in cui è facile spostarsi, ci sono più modi e questo è importante per arrivare nello stesso punto, ci si può muovere in modo laterale, si può scendere, si può tornare su e quindi è una società anche più coesa perché ci sono più contatti, come dicevo, ci si può muovere da un atto all'altro. Ecco, questi sono due modelli diversi di società e sta a noi scegliere in quale delle due società vorremmo vivere e soprattutto in quale delle due società vorremmo che crescessero i nostri figli. Mi fermo qui. Applausi